Ciao ragazzi, vorrei farvi un piccolo riassunto di questo video che state per vedere. Praticamente sto facendo delle domande al governo senegale per sapere se hanno un piano, un piano di come venire in aiuto alle famiglie. Allora, perché come sapete tutti, in tutte le famiglie, in tutti i paesi, vorrei dire, praticamente c'è sempre una parte povera e una parte ricca. E giustamente nel mio paese c'è questo fenomeno. Adesso che la gente è in quarantena, volevo sapere se il governo ha pensato ad aiutare, a venire in aiuto queste famiglie povere, queste famiglie bisognose. Quindi stavo chiedendo se c'è l'anno, questo piano, e se sì, come pensano iniziarlo, come pensano farlo. Poi ho chiesto se qualcuno di loro ha pensato ai bambini che sono senza case. Praticamente questi bambini sono chiamati talibè. I talibè cosa sono? Sono bambini che certe famiglie portano dal marabù, le lasciano lì e i marabù in teoria dovrebbero insegnargli il Corano, ma invece di farlo le mandano per strada a chiedere le lemosina e così via. In questo periodo volevo sapere se qualcuno aveva pensato a questa povera gente. In più ho chiesto se la gente, le persone con malattie mentali, qualcuno aveva anche pensato a loro. E' quello il tema. E' tutto per oggi. Non dimenticate di dare un like e di lasciare i vostri commenti sotto la pagina. E di iscrivervi e di attivare il campanello per tutte le notificazioni. Vi ringrazio. Allora, per questa video, io ero solo facendo delle domande al governo sénégalale. Io volevo solo sapere se il governo aveva pensato a aiutare le famiglie diminuzione. Quindi, come vi lo sapete, come in tutto il paio anche, il y a una parte riche, una parte pauvre, dei persone che hanno difficoltà per mangiare il mattino, il mattino o il mattino o il mattino. Quindi, il y a delle famiglie che, ogni volta che qualcuno abbia a aiutare qualcosa per fare la pagina quotidiana. Quindi, in questo momento, quando siamo tutti a la casa, siamo in quarantina. Io volevo sapere se il governo aveva prevato a aiutare queste famiglie. E come si poteva lo fare? E non solo, a parte di questo, Ci sono altri che hanno il loro proprio lavoro e che, a la fine di questo mese, avranno dei seri problemi. Non solo non possono subvenire a loro bisogno, ma pagare, per esempio, le loyer, le facture di l'elettricità, l'eau, tutto ciò. La vita è molto bella, è molto bella a Dakar, quindi è stato un altro plan per questo, per queste famiglie, per questi che hanno il loro lavoro, che non ne lavorano per il governo o per un'entreprise, che sono dei privati, che fanno le cose per loro, per loro, per loro. Quindi bisogna che il governo, se ha già fatto l'opportunità, non lo faccio. E i talibati, i povri talibati qui sono qui dorsi, e che non hanno nessuna pagine, è che sono ancora insexono, e i malattici werdenzi, i malattici, che non hanno nessuno. il ramasse dans les poubelles pour manger il dorme dans les rues une situation désastreuse que personne n'est digne des fois de 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 se tourner et dire il faudrait que quelqu'un y pense est-ce qu'ils sont encore là salam aleykoum boha sénégal salam aleykoum tainan madelou si wad ni oukha de vide wou madougou l'on mou 3 mou wati corinna mishidon lak sénégal y 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 Grazie a tutti i nostri spettatori e ci sono i nostri spettatori e ci sono i nostri spettatori e ci sono i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori e ci sono gli stuporsi che ci sono diventata i nostri spettatori e ci sono dei dollari, che ci sono gli stuporsi e ci sono gli stuporsi e ci sono altri due giorni. questo è vero. È ora che io sono 3. Non so che non so, io ho visto anche tutti i ragazzi, ma non sono una carottere in questo video, è la vera che ciò che ciò che ciò che ciò che ciò che sta facendo. Quindi siamo in una situazione e ora, come vediamo alla noi, io ho una situazione che è una famiglia del Senegal, è quello che crede a fare per la popolazione. Per la situazione dei problemi, i racconti che ciò che ciò che ciò che si è vero, Questo è stato un po' di più di più di più di più di più di più. Un artiste della Senegal è affricto che vorrò a prodotto nel proprio sito. Si venendo di nuovo 4 ore, addiranno a 104 euro! Adesso devo fare sempre! Anche i ragazzi sono a pensato che devo guardare il peso di italiani e anche se del bathing, come vivono in strada, ove non sono pure il peso di lato dei lato, ora ci sono la come avanti di piglia! Non solo, non solo il maschio. Il maschio è molto caro. Nessuno può parlare. C'è un prezzo. Il prezzo è un prezzo. Il prezzo di 1 euro, 10 euro, 10 euro, 100 euro. Quindi ci sono le problematiche del governo, ci sono le problematiche del sénégalismo, per farlo di problematiche, problematiche del gel, problematiche del maschio. C'è vero che ciò che diceva che il maschio non è necessario per avere un problema del malato. Non, 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 ma non è necessario di farlo, non è necessario di farlo di solito senza il conto che il maschio. Il risulta che il maschio non è necessario di farlo, però il risulta che il maschio non è necessario. Ma cosa che non sono presa, è di tutto il caso. Ma il caso di questo, da qualsiasi cosa, che non le faccia non lo faccio, che si non lo faccio, e non lo faccio, non lo faccio a fare la piccola. E questo questo non lo faccio, ci sono tutti gli maschi, ma questo è tutto quello che ciò è. Quindi gli altri, gli altri, gli altri, gli altri, gli altri, gli altri, e le loro carri, Quindi se stiava bene la società che non sono per un altro problema. Secondo, non solo è la question di O. Javel, come si faccio la società? Si faccio la società, come se faccio. La seconda question è la question di O. Javel. La famiglie 10 persone ha avuto una sola di O. Javel. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Non, 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 non. Non, 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 non. C'è il sociale che cosa? Ci sono il poliziere per heavens e farlo e farlo noi ci prendono la vostra vita semplicemente. Ci sono i tommositi la vostra vita, le persone che potano fare per i giorni, fine, che non c'è perché no è per nessuna resta la vostra vita. e questo è quello che troppo è così, e ci sono le strategie per concludere il nostro governo, anche se debattano di avere un'imperi di un'imperi di un'imperi di un'imperi di un'imperi di un'imperi di unico che si aveva fatto, che ci sarebbe da parte, ci sarebbe da parte, perché non ci si vanno, Inoltre, non ci sono che adorare i tuoi raggiore un paese. Noi gloria che non ha fatto. Perché non ci sono ancora un paese, dove c'è l'Italia. Non ci sono perché non ci sono un paese dell'Italia. Non ci sono ancora un paese, non? Perché a tenuto un paese? Perché chiama? Perché sa stessa? Perché non ci si chiama? Perché non ci sono un paese. Ora, cosa facciamo fare? Il senso che le maladi che succede a 1 miliardi di euro, non c'è il problema di tabac. Il senso che le maladi che facciamo, non il problema di tabac. Non, non c'è il problema di tabac. Il problema di famiglie che tutti i Sénégali, non c'è il problema di famiglia, Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, a la prossima.